Ora, una distesa di pinguini. Ora pinguini. Ora, una distesa di pinguini. Ora, una distesa di pinguini. Ora, una distesa di pinguini. Ora, un raro. Una distesa di pinguini. La distesa di pinguini. Ora, una distesa di pinguini. Pinguini. Questo è uno scua, si mangia i piccoli figa, piante, uomo, tutto quello che arriva a tiro. Insomma è un grandissimo figo. Sì, va a preparare. Che pille pure acè. pure visto centinaia direi migliaia di pecoreτο della penisola di Valdés le gnie della mammaus neo ne traiqueria e ora oggi, eccoci qui a selic tiene insieme ai pinguini ne raccomandano due scale no i pinguini ah 마� a putt i pinguini sotto il ponte pareva che trombassero un'isba, ciccia questi due pinguini si stanno spidocchiando a vicenda questo pinguino invece ha un caldo atroce sono rimasta contentissima è un comportamento copula e si ritira tre faraone quando siamo tornati dal punto di casa ce n'erano lo stupo di una strada sì, bello non so, non so Grazie a tutti. Grazie a tutti.